Ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Per il progetto di oggi sto usando il Miami Lux. Questo progetto fa parte della mia collezione Summer Trends. Come vi ho detto nel tutorial precedente in questa collezione metterò in risalto molto i colori. Questa volta sto usando il Miami Lux della Mistrico Filati e il colore è 01 e come vedete sono dei colori caldi che vanno dal terra bruciata al rosa e verde militare. L'uncinetto che sto usando è il 3,5. Per quanto riguarda la lavorazione di questo progetto sto facendo un top down rotondo e adesso vi faccio vedere come ho lavorato. Per questo progetto ho voluto fare un top down rotondo e come vedete è bello piatto. Non ho fatto un punto molto complicato, molto elaborato perché il filato ha delle sfumature veramente belle. Quindi ho voluto fare questo tipo di lavorazione. Il numero di maglie che ci serve è un numero pari. Nel mio caso ho fatto un totale di 110 catenelle che corrispondono a una circonferenza di 60 centimetri. Quindi voi se volete aumentare o diminuire la circonferenza dove deve entrare la nostra il nostro lavoro basta calcolare la circonferenza della testa. Avviate le vostre catenelle se cambiate uncinetto il numero e quando arrivate alla vostra circonferenza potete chiudere a cerchio. Io ho inserito poi gli aumenti dove ho le maglie alte e nel primo giro ho inserito in ogni catenella di separazione due maglie alte. Quindi in ogni catenella ho inserito due maglie alte e ho caricato molti aumenti nel primo giro. Questo perché non volevo andare avanti con gli aumenti. Quindi invece di fare due giri senza aumenti e un giro con aumenti li ho caricati in tutti gli spazi. Infatti poi noterete che nella lavorazione il lavoro viene un po' ondulato però man mano che andiamo con i giri la lavorazione viene piatta perché poi ho inserito, ho fatto di nuovo i due giri con maglia alta e catenella e nel giro delle maglie alte ho inserito di nuovo gli aumenti. In ogni spazio due maglie alte e una volta fatto questo io sono arrivata ai miei aumenti e poi sono andata avanti senza aumentare più. Quindi adesso vi spiego come ho iniziato e come sono andata avanti e vi spiego anche se volete caricare molti aumenti nei primi giri oppure se volete fare un giro con aumenti e un giro no. Vado avviare un totale di 110 catenelle. Le maglie che ci servono devono essere a numero pari. Nel mio caso 110 corrispondono a 60-62 centimetri. Quindi questa è la prima catenella, una seconda catenella e vado avanti fino ad arrivare alla mia circonferenza della testa. In questo modo iniziamo la lavorazione dalla testa e andiamo avanti a lavorare lo sprone. Fatte le 110 catenelle vado a chiudere la prima catenella che abbiamo sull'uncinetto, quindi l'ultima catenella con la prima catenella dove abbiamo iniziato il nostro lavoro. Cerchiamo di mettere il lavoro dritto altrimenti attorciglia il filato e chiudo con una maglia bassissima. Inizio a lavorare il primo giro facendo una maglia alta e una catenella di separazione saltando una catenella di base. Inizio con tre catenelle che è la mia prima maglia alta, più una di separazione. Salto la catenella a fianco, vado a fianco ancora e lavoro una maglia alta. Catenella di separazione. Salto la catenella subito dopo, vado a fianco ancora, maglia alta. Catenella, salto 1, vado a fianco ancora, maglia alta e proseguo questo fino a terminare il giro. Saltando sempre una catenella di base. Ci vediamo al termine del giro. Una volta che ho lavorato la maglia alta catenella saltando una catenella di base, quindi sono arrivata alla fine, ho fatto la catenella di separazione e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Devo lavorare il giro di solo maglia alta e in ogni spazio, in ogni catenella di separazione io inserisco due maglie alte, ma lo faccio in tutti gli spazi. Quindi inizio con tre catenelle, 1, 2 e 3. Entro qui dove ho la catenella di separazione e lavoro due maglie alte all'interno, 1 e 2. Vado a fianco e lavoro la quarta maglia alta, la maglia alta sulla maglia alta. Nello spazio ne lavoro due. Maglia alta su maglia alta, qui due maglie alte, 1 e 2. Maglia alta su maglia alta. Qui due maglie alte, 1 e 2. Se non volete fare molti aumenti al primo giro potete lavorare la maglia alta sulla maglia alta, questa rimane invariato. Nello spazio della catenella lavorate una maglia alta, a fianco sulla maglia alta, la maglia alta e nello spazio qui a fianco lavorate due maglie alte, 1 e 2. Proseguite come volete, o tutti gli aumenti nel primo giro oppure gli alternate dove volete, decidendo come volete voi il vostro sprone. Se lo volete molto largo o invece inserire gli aumenti gradualmente. Io li ho fatti tutti al primo, li ho inseriti nella prima riga, ho inserito due maglie alte in ogni spazio. Mentre andate avanti con la lavorazione, però, quando contate le maglie, vi dovete trovare sempre con maglie pari. Se invece vi trovate con maglie dispari, alla fine della lavorazione, invece di due maglie alte, fate una maglia alta. Però, andate avanti e ve lo faccio vedere. Questo è il risultato finale. Però, io adesso devo lavorare l'ultima maglia alta sulla maglia alta e nello spazio lavoro una maglia alta, non due. Perché, se lavoro due maglie alte, mi ritrovo con un totale di maglie dispari. Quindi, per avere sempre un numero pari, lavoro una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta all'interno dello spazio. Adesso, chiudo nella terza catenella, 1, 2, 3, con una maglia bassissima. Come vedete, il lavoro è molto, con gli aumenti che abbiamo fatto, è un po' ondulato. E a questo punto lavoro, ripeto, il motivo della maglia alta e catenella di separazione, saltando una maglia di base. Questo mi serve per stabilire un po' il mio lavoro. Quindi, inizio con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, più una di separazione. Salto 1, vado a fianco, maglia alta. Catenella. Salto 1 maglia alta, vado a fianco e sulla maglia alta lavoro la maglia alta. Catenella. Catenella. Salto 1, vado a fianco, maglia alta. Catenella. Salto 1, vado a fianco, maglia alta. Catenella. Salto 1, vado a fianco, maglia alta. Ripeto, in questo motivo, questo giro è il prossimo giro. Ci vediamo al termine del giro, così ve lo faccio rivedere. Chiudo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella. Ripeto il motivo di maglia alta e catenella di separazione. Sulla maglia alta lavoro la maglia alta e la catenella. Faccio 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, più una di separazione. Vado sulla maglia alta, maglia alta. Catenella. Sulla maglia alta sottostante lavoro la maglia alta. Catenella. Qui ho la maglia alta e lavoro maglia alta. Il giro successivo, invece, faccio di nuovo gli aumenti. Quindi, in ogni spazio, lavoro 2 maglie alte. Finito anche questo giro, chiudo nella terza catenella, 1, 2, 3, con una maglia bassissima. In questo giro, adesso, inserisco gli aumenti. Inizio con 3 catenelle. Nello spazio della catenella, lavoro 2 maglie alte. E lavoro come il secondo giro. Maglia alta su maglia alta. 2 maglie alte nello spazio della catenella di separazione, 1 e 2. Maglia alta su maglia alta. Nello spazio, lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Maglia alta su maglia alta. Proseguo questo fino a terminare il giro. Ecco come si presenta lo sprone. Ho lavorato gli aumenti, il giro di aumenti, e vado a misurare. Quindi, diciamo che, lavorando il top down, è una lavorazione più semplice. Perché noi, in questo modo, possiamo infilare il nostro progetto e possiamo vedere se con gli aumenti, andiamo bene. Nel mio progetto iniziale, quello originale, al quinto giro, come ho fatto qua, ho lavorato gli aumenti. Poi ho fatto un giro di assestamento, lavorando maglia alta a catenella di separazione per 2 volte. Il giro successivo, poi quando ho misurato, ho visto che per me andava bene. Avevo raggiunto la mia circonferenza e la mia larghezza. Quindi, in ogni catenella ho lavorato una maglia alta. Se invece voi lo provate, e vi rendete conto, dopo aver fatto i due giri di maglia alta separata da una catenella, di fare altri aumenti, li inserite non in tutte le maglie alte, in tutti gli spazi di maglie alte, quindi non lavorate due maglie alte, ma li inserite dove volete. Io ho fatto solo una maglia alta perché ho raggiunto la mia larghezza. Quindi, a questo punto, vi faccio vedere sul campione come andare avanti. Una volta che ho misurato, ho raggiunto la mia circonferenza, ho lavorato sempre due giri di maglia alta separata da una catenella, saltando una maglia di base. Salto una, vado a fianco. E lavoro questo per due volte. Salto uno e vado a fianco. Salto uno e vado a fianco. Quindi lavoro questo giro e anche il prossimo giro. Ecco come si presenta il mio sprone. Una volta che ho lavorato i due giri di maglia alta separata da una catenella, vado a lavorare il giro di maglie alte, senza inserire aumenti. Da adesso in poi io non lavoro più gli aumenti. Invece, se voi avete misurato, e ritenete opportuno di inserire qualche aumento in più, non tanti, lavorate una maglia alta nello spazio della catenella, e poi, dove ritenete opportuno, inserite due maglie alte nello spazio, quindi inserite degli aumenti. Io vado a lavorare la maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nello spazio della catenella, mantenendo le maglie alte. e inizio sempre con tre catenelle che è la mia prima maglia alta. Uno, due e tre. Nello spazio una maglia alta. Qui sulla maglia alta la maglia alta. Nello spazio una maglia alta. Maglia alta sulla maglia alta. E vado avanti fino a terminare il giro. Il giro successivo lavoro di nuovo il motivo di maglia alta separata da una catenella. Lavoro due giri. Invece, poi, da dove, dopo i due giri, lavoro sempre maglie alte fino ad arrivare allo scalfo. Questo perché? Perché voglio la parte sopra il seno più coperta e anche la parte di sotto più coperta. Quindi lavoro solo maglie alte, non inserendo più aumenti. Quindi vado a lavorare le maglie alte sulle maglie alte e la maglia alta nella catenella. Maglia alta su maglia alta. Maglia alta nella catenella. Proseguite questo e ci vediamo al termine. Chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Devo ripetere per due volte il punto della maglia alta catenella di separazione maglia alta. E lo vado a ripetere per due volte. Come abbiamo fatto qui. Poi dal giro successivo invece lavoro solo maglie alte fino ad arrivare alla lunghezza dello scalfo. Io ho fatto un totale di 17 centimetri. Quindi inizio con tre catenelle, una catenella di separazione. Salto uno, vado a fianco, maglia alta. Catenella, salto uno, vado a fianco, maglia alta. Ripeto questo giro e l'altro giro. Ci vediamo quando arriviamo allo scalfo. Ecco come si presenta il mio sprone. Quindi ho lavorato un giro di maglia alta catenella di separazione saltando una maglia di base. Il giro successivo in ogni catenella ho lavorato due maglie alte e ho inserito gli aumenti in tutti gli spazi e la maglia alta sulla maglia alta. Poi ho lavorato due giri di assestamento di maglia alta e catenella di separazione ripetendo il giro numero uno saltando sempre una maglia alta di base. Lavorato i due giri ho fatto un altro giro inserendo sempre nello spazio della catenella due maglie alte quindi un altro giro dove ho inserito in ogni spazio una aumento e questi due giri ho inserito molti aumenti. ho lavorato sempre due giri di maglia alta catenella saltando una maglia alta di base e poi ho misurato e ho visto che la mia circonferenza andava bene. Quindi ho una circonferenza di il mio diametro è di 50 cm e mi sono fermata con gli aumenti quindi poi ho ripetuto i due giri di maglia alta con la catenella di separazione e il giro poi di maglie alte perché ho voluto riprendere il motivo nello spazio ho lavorato una maglia alta non più due quindi nello spazio ho lavorato una. se invece voi avete bisogno di altri aumenti inserite due maglie alte dove ritenete opportuno poi ho ripreso di nuovo il motivo lavorando sempre il motivo con maglia alta e catenella di separazione per due volte quindi il motivo che ho ripreso con la maglia alta sono uno vabbè quello iniziale sono uno due e tre volte l'ho ripetuto poi ho lavorato le maglie alte su ogni maglia alta sottostante io ho un totale di 262 maglie alte ho mantenuto sempre 262 maglie alte quindi qui mi sono ritrovata con 262 maglie alte e ho proseguito con le stesse maglie fino a 15-16 cm in tutto non sono 15 ma sono 16 una volta che sono arrivata alla mia lunghezza dello scalfo e larghezza ho terminato ho tagliato il filo perché poi riprendo la lavorazione con le maglie alte per unire il davanti con il dietro ho piegato a metà e questo è il mio sprone quindi mi ritrovo poi una volta che piego a metà questi sono i miei segni dove ho diviso il davanti con il dietro questo è l'apertura della manica la mia apertura della manica misurando da questo punto fino a dove ho messo il segno sono di 17 cm e qui invece sono un totale di 48 cm quindi ci siamo ho messo i segni quindi questa è la parte del busto dove dobbiamo lavorare e qua invece è la parte che lasciamo in sospeso per le maniche adesso vado a unire il vado a lavorare maglia alta su maglia alta e poi vado a unire il davanti con il dietro una volta che ho tagliato il filo ho piegato a metà questa è l'apertura della manica quindi qui è lo scalfo e qui noi dobbiamo lavorare il nostro busto vado a lavorare maglie alte su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare dove ho il segno e poi da questo punto devo unire il davanti con il dietro inizio sempre con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta e vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta a fianco maglia alta a fianco maglia alta ci vediamo dove ho messo il segno arrivato a questo punto dove ho il segno lavoro una maglia alta all'interno della maglia alta sottostante e per mia comodità realizzo 2 catenelle 1 e 2 solo 2 piego in questo modo vado dove ho l'altro segno e lavoro un'altra maglia alta dove ho questo segno io ho realizzato solo 2 catenelle per avere più larghezza sotto e alla manica però se voi non volete aggiungere nessuna catenella potete unire facendo direttamente la maglia alta senza fare catenelle di separazione piegate a metà e andate dove avete messo l'altro segno della manica di dietro e lavorate un'altra maglia alta io ho voluto fare 2 catenelle ripeto per una mia comodità perché siccome è un capo estivo non lo voglio molto attaccato alla pelle quindi volendo potete fare anche una catenella anche se ho raggiunto la mia circonferenza io aggiungo sempre le mie catenelle queste due catenelle vado qui e lavoro la maglia alta vado a fianco e lavoro una maglia alta quindi lavoro le maglie alte così come si presentano fino ad arrivare dall'altra parte poi vi faccio vedere come unire di nuovo il davanti con il dietro sono arrivata dall'altra parte della manica quindi tolgo il segno lavoro la maglia alta sulla maglia alta dove ho tolto il segno nel mio caso due catenelle di separazione uno e due prendo l'altra parte della manica e come vedete qui noi abbiamo iniziato e chiudo con una maglia bassissima della terza catenella questo è il nostro sprone quindi questa è la parte del busto e questa è la manica vado a lavorare adesso dei giri di maglie alte fino ad arrivare alla mia lunghezza e lavoro anche sulle catenelle quindi inizio sempre con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta quindi iniziamo chiudiamo con una maglia bassissima e iniziamo con 3 catenelle io proseguo in questo modo quindi voi proseguite e se volete fare degli aumenti potete lavorare fino alla vita dritto solo maglie alte dalla vita potete inserire degli aumenti quindi nel primo giro potete inserire 6 aumenti il giro successivo potete fare un giro di assestamento gli aumenti li lavorate dove volete quindi in una maglia alta lavorate 2 maglie alte io proseguo con maglie alte senza fare aumenti fino alla vita poi vi faccio sapere quanto è lunga la mia lavorazione e se ho inserito degli aumenti adesso vi faccio vedere come lavorare sulle catenelle continuato la lavorazione mi ritrovo dove ho fatto le catenelle di separazione quindi vado a lavorare l'ultima maglia alta sulla maglia alta e sulle catenelle che ho due catenelle lavoro una maglia alta sulla prima catenella e una maglia alta sulla seconda catenella adesso maglie alte su ogni maglia alta sottostante e ripeto questo anche dall'altra parte quindi proseguite questa lavorazione molto semplice e se dovete fare degli aumenti vi ho detto come inserirli quindi dopo se volete inserirli dopo il giro vita potete inserire primo giro sei aumenti il secondo giro invece lavorate le maglie come si presentano senza aumentare il giro successivo se volete aumentare di nuovo inserite altri sei aumenti io vado avanti poi faccio sapere se ho inserito aumenti e come li ho inseriti terminato la maglia quindi ho lavorato maglie alte come si presentavano per tutta la lunghezza infatti ho finito sempre con maglie alte non ho ripreso il motivo di sopra per quanto riguarda il totale della lunghezza sono 50 cm non ho fatto aumenti perché la maglia siccome ho iniziato con molte ho fatto molti aumenti la maglia è di 50 cm di larghezza quindi diciamo che per la mia larghezza è molto comoda e non ho fatto aumenti ho proseguito la lunghezza lavorando sempre 262 maglie alte perché io alla fine mi ritrovo con 262 maglie alte la manica l'ho lasciata in questo modo per questo progetto ho usato una cake se invece voi volete aggiungere le maniche o allungare la maglia dovete prendere almeno due cake dopo che avete fatto tutto questo potete tagliare i fili e la nostra maglia è pronta per essere indossata detto ciò vi invito a iscrivervi al mio canale mettete un like e ho un gruppo facebook che si chiama le creazioni di carola e le amiche di uncinetto è un gruppo libero dove potete postare i vostri lavori ci vediamo a presto con altri video tutorial grazie per la visione e ciao grazie per la visione